Siamo qui per l'ultima audizione di questa serie di audizioni che abbiamo fatto in tutta Europa e ho deciso di fare l'ultima fase dell'audizione proprio qui a Torino la città e il teatro Reggio che ci ospita per questa nuova creazione che debuterà proprio nella stagione lirica del Teatro Reggio di Torino Il lavoro che è stato pensato e commissionato dal Reggio di Torino è un lavoro molto affascinante per quanto mi riguarda perché è la seconda volta che io faccio un lavoro su Luigi Pirandello e quindi la prima volta ero molto giovane Luigi Pirandello è un personaggio, uno scrittore che ovviamente rispetto tanto da siciliano e adesso per la seconda volta è molto interessante questo avvicinamento perché mi interessava anche il punto di vista dell'umanità in generale per quanto riguarda la filosofia di Luigi Pirandello guarda la filosofia di Luigi Pirandello Grazie a tutti.